ciao allora benvenuti nel video dei sopravvalutati del periodo non sono solita fare video dove boccio dei prodotti ma quando li acquisto e vedo che proprio non funzionano ma non è solo una cosa soggettiva ma sono soldi spesi male ve lo dico e quindi ogni tanto faccio questo tipo di video allora il primo prodotto che vi mostro cosa vi ho detto finora cancellatelo perché è un prodotto che ve lo faccio vedere facciamo prima allora è questo che è un campioncino però con tanto prodotto all'interno dunque questo è della tease work 24 ore can't sleep deep sleep pillow spray allora cosa dirvi 2,5 ml questo che è comunque in spray proprio con l'erogatore me lo fai anche vedere l'erogatore o comunque questi spray e l'ho usato mi è durato sponzato tutte le sere più di 10 giorni se magari vi dico anche che cos'è e cosa serve sarebbe bello allora per chi non lo conoscesse è un prodotto che va applicato sul cuscino prima di coricarsi e dovrebbe andare a rilassare e quindi a conciliare il sonno comunque rilassare con l'aromaterapia l'idea è molto buona allora intanto questo qui che è questo ok l'idea è buona perché effettivamente contiene olio di olio essenziale di geranio limone e lavanda allora sì infatti ve l'ho detto anch'io comunque attenzione perché sono oli essenziali puri quindi inci quasi completamente verde molto buono l'inci è valido sicuramente però sono oli essenziali puri quindi dato che dovete spruzzarli sul cuscino e poi appoggiarvi sopra potrebbero dare irritazioni quindi magari prima di passarci una notte intera fate un test perché se vi dà irritazione passare la notte su un prodotto che vi dà irritazione la mattina dopo non so come potrebbe svegliarvi potreste svegliarvi quindi testatelo prima detto questo l'idea della lavanda come nell'aromaterapia come prodotto rilassante sì è vero funziona prezzo che non vi ho detto in vendita da sefora 75 melle a 22 euro allora cosa dirvi perché lo boccio intanto perché l'idea è ottima io l'ho usato per 10 sere consecutive è uno spray secco quindi non va a bagnare il cuscino tranquillamente potete spruzzarlo tre o più spruzzi il profumo qua lo hanno usate lavanda è agitato prima dell'uso comunque se lo hanno usate qua è lavanda proprio lo andate a spruzzare si mischiano gli odori gli essenziali non è più lavanda a me soggettivo cosa ricorda però non è più lavanda e a me ricorda avete presente le case delle nostre nonne quando mettono i capi invernali o estivi nell'armadio con l'antitarme ecco a me ricorda quello non mi piace quindi l'idea è buona ma insomma devo dire che perché lo boccio perché 22 euro l'idea è ottima quindi voi considerate per rilassarsi l'idea della lavanda questa ci scura allora se voi avete della lavanda vicina l'andate a prendere un pianto di lavanda l'andate a prendere la fate togliete la parte del fiore la fate essiccare e poi le mettete in un cuscino in un sacchettino in organza in seta in tessuto insomma e lo mettete sotto cuscino quella è la cosa migliore mi raccomando che siano belli secchi fiori quello è naturale al 100% e funziona se no erboristeria esiste l'acqua di lavanda non è l'olio essenziale è l'acqua di lavanda che però è certificata esiste anche quella da poco ma esiste quella biologica che si spruzza tranquillamente sul cuscino sul letto sulle lenzuola sui vestiti e funziona davvero si sente bene e costa molto meno quindi lo boccio soprattutto per il prezzo perché è una spesa inutile cioè si trova tranquillamente nella erboristeria a chi non ce l'ha una erboristeria a chi non ce l'ha vicina ed è acqua di lavanda olio essenziale di lavanda tranquillamente biologici ovviamente costano meno di questo prodotto è proprio lavanda al 100% quindi no prossimo prodotto che anche questo è davvero bocciato invece è questa questa è la crema mani della sephora al cocco crema mani al cocco confezione da 30 ml quindi sono belle anche da poi piccolino da tenere in borsa 30 ml 4,90 euro l'ho segnato i prezzi della sephora la collezione loro non sono mai scontabili con le promozioni se non con i saldi o poco altro ma 4,90 ci sta la confezione è questa ed è piccina è buona l'idea da tenere in borsa o da portarsi magari in viaggio ok io passando l'ho vista e ho detto no cocco in estate estate è cocco assolutamente una crema mani crema mani io vado matta per le creme mani al profumo di cocco deve essere mia che delusione allora ha una texture il tappo è un po' scomodo ma va bene ha una texture molto fluida che assorbe molto velocemente quindi dopo si può tranquillamente usare le mani che oggi non mi vengono le parole comunque si può tranquillamente usare le mani appena dopo applicata perché assorbe immediatamente ok i lati positivi finiscono qui basta ciao al prossimo dunque potere idratante basso cioè davvero usate in estate quindi quando non c'è freddo quando non sono irritate sento il bisogno poco dopo applicazione da andarla a riapplicare e contretutto considerate che i lavori domestici li faccio con i guanti quindi non sono non ho le mani rovinate ma proprio potere idratante basso bassissimo e quindi non funziona come crema oltretutto io l'ho comprata per il profumo di cocco secondo voi la crema sa di cocco? no no assolutamente no e adesso no né qua né una volta applicata sa di crema non sa di cocco quindi per me è stata una grande delusione perché va bene l'ho finita è una crema però non idrata non sa di cocco che cos'è? una crema classica poco idratante quindi questa di questa linea scusate se guarda così potete tranquillamente evitarla altra cosa che vi devo dire di questa crema l'inci l'inci fa schifo sì esatto e no ci sono delle creme da discount che sapete che vi ho recensito che sono molto più valide di queste costano meno funzionano meglio hanno un'inci migliore quindi questa è proprio no no veniamo all'ultimo prodotto che anche questo è assolutamente una spesa inutile allora vi parlo di questo trattamento per i capelli della Elvive Dream Long crema bye bye spuntatina sigilla le doppie punte rinforza lunghezze punte senza risciacquo per capelli lunghi danneggiati allora la confezione ha un 200 ml e viene 3,99 euro da Tigota ve la faccio vedere subito sì c'è un'intera linea con il shampoo balsamo la maschera e ho dovuto provare proprio il trattamento senza risciacquo che è quello che si va ad applicare sui capelli inumiditi dopo il lavaggio oppure sui capelli asciutti prima dello styling e deve andare a proteggere le punte in modo da bye bye spuntatina come scrivono qua e farvi guadagnare centimetri perché il taglio dei capelli dovuto dalle doppie punte è diradato allora premesso che non mi aspettavo miracoli non mi aspettavo di non dover tagliare i capelli e non mi aspettavo di non avere doppie punte quindi partivo già prevenuta sapevo che i miracoli non avrebbe fatti ma sinceramente utilizzare questo prodotto e non utilizzarlo non cambia niente io ogni due mesi faccio la spuntatina come usato o non usato usato costantemente quindi ogni volta che mi lavavo i capelli applicavo dopo questo non è cambiato niente dice oltretutto di essere un termoprotettore fino a 180 gradi sinceramente esistono in commercio termoprotettori più validi ma se per caso lo avete e vedete che non vi fa niente con le punte almeno usatelo come termoprotettore che non è il massimo ma meglio di niente è quindi io questo l'ho completamente finito perché lo volevo proprio provare ma no cosa positiva che devo dire è che comunque sia non va a appesantire i capelli e non li va a sporcare più velocemente almeno a questo però leggendo l'inci è pieno di siliconi ecco il trucchetto quindi il silicone va a agguantare il capello e come dire è un effetto cosmetico visivo che non ti ha in questo caso così o al tatto di capello più liscio perché lo va a ricoprire quindi sembra visivamente più più compatto più ma questo ciuffo qua oggi che cosa più compatto più liscio appena applicato andiamo a vedere e non vediamo le doppie punte ok però lavandolo se ne va e quindi solo un effetto cosmetico è come se noi aprissi a cassimo un fondotinta fondotinta non va a curare la pelle va solamente a migliorarla momentaneamente fino a quando non ci strucchiamo stessa cosa questo quindi mi spiegate a cosa serve e va bene sono 3,99 euro ma sono davvero soldi spesi per niente che si possono investire in un prodotto che se c'è un prodotto che vi promette di far sparire le doppie punte non è vero può farle prevenire la formazione ma questo è i telemoprotettori quindi invece di spendere i soldi tra i 99 si prende un valido telemoprotettore che ce ne sono davvero tanti non per forza quelli da parrucchiere che costano tantissimo ma ce ne sono anche di vari ve ne voglio dire a qualcuno ma non mi viene in mente comunque ve lo scrivo qui nell'info box perché ce l'ho di là e funziona sicuramente molto meglio il telemoprotettore va a proteggere il cappello dal phon o dal piastro dal riccio a capelli da qualunque cosa ed evita che si formino le doppie punte si formano più lentamente e quello può valere che non costa però 3,99 euro comunque vi ho detto tutto sì quindi queste erano i sapete cos'altro vi volevo dire ecco perché non mi faccia una scaletta io quando faccio questi video che questo prodotto più che altro è stato super pubblicizzato dalle youtuber o dalle blogger e quindi tutti lo mostravano quelli con i capelli lunghi ed è un prodotto rivoluzionario ecco perché la gente lo comprava perché era pubblicizzato da loro ma loro erano pagate per pubblicizzarlo e comunque le novità le avrei provate anche se non le pubblicizzavano quindi le avrei provate ugualmente perché tutte le novità sono mie da provare e poi condividere le mie opinioni con voi quindi a questo punto chiudo qui il video dei sottravalutati del periodo come sempre sapete che in questo caso i video non sono a carenza mensile ma quando ho qualche prodotto che devo dirvi la mia opinione ed è bocciato li unisco e quando ne ho qualcuno per fare un video non troppo lungo quindi non come a questo ed è lo faccio e ve li unisco a tutti quanti comunque vi ricordo di seguirmi anche su instagram perché lì invece pubblico le fist impression e devo dire che sono davvero cattiva lì sono davvero ne boccio davvero molti di più quindi seguitemi anche lì mi raccomando ed è se avete fatto qualcuno di questi prodotti fatemi sapere se avete un'opinione diversa come siete trovate se mi sono stata utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like iscriviti al canale mi raccomando anche cliccare sulla campanella così verrete avvisato ogni volta che carico un nuovo video alla prossima ciao ciao